Passione, dedizione, cura. Parole semplici ma dal grande significato nella cooperativa sociale Arca di Noè, un luogo dove attraverso l'agricoltura ed altre attività si iniziano percorsi di sostegno reciproco, dall'educazione al lavoro al reinserimento lavorativo, passando per attività dedicate alle persone con disabilità. È nata un'esperienza di volontariato all'inizio degli anni 90 nel centro storico della città. Poi dopo qualche anno abbiamo scoperto questo posto, attraverso l'agricoltura di ricostruire questo posto, ma soprattutto di costruire e di lavorare per la crescita di questa piccola comunità. Da qualche anno siamo diventati cooperativa sociale e quindi stiamo cercando di formalizzare e legalizzare tutti questi percorsi di sostegno vicendevole che negli anni si sono venuti a creare. Quindi ci sono percorsi di sostegno alle persone con disabilità, percorsi di educazione al lavoro, percorsi di integrazione lavorativa. Ogni persona è già un mistero, quindi volere in qualche modo aprirsi, accogliere persone con delle fragilità particolari bisogna allenare l'elasticità di inventare dei percorsi e delle possibilità di accoglienza e di inclusione delle persone più fragili. Una realtà conosciuta ed apprezzata e che necessita, come tutte le altre, anche di un sostegno da parte delle istituzioni. La continuità di queste relazioni è più che legata alle istituzioni in quanto tale, alle persone di buona volontà che alcune volte nelle istituzioni si trovano. E quindi più che relazioni stabili istituzionali sono relazioni stabili con persone che stanno all'interno delle istituzioni. Il riconoscimento reale e sostanziale di questi percorsi che in agricoltura riescono a realizzarsi e ad avere, secondo noi, una grande valenza sociale, riconoscerli e sostenerli in quanto percorsi di inserimento sociale e di inclusione sociale.